Sponsored by Lineeleco, da sempre in moto verso il futuro, lineeleco.it Impresa Valassi, fermo e franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassiff.it Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it Questo è difficile, io ho iniziato a giocare a 5 anni, mi piaceva la pallone, mi piaceva giocare a pallone, stare in compagnia con i miei amici, poi è una cosa che va avanti, se ti piace va avanti, quindi l'inizio adesso non me lo ricordo benissimo, però è la passione penso sia quella. Vorrei chiedere a Buzio, come si fa ad essere così freddo sotto porta, cioè ad essere concentrato ogni giro, ogni movimento, cioè un po' tutto? Eh, tanta fortuna, grande tutto, poi no, sicuramente l'allenamento quotidiano ci aiuta ad arrivare in partita, ad affrontare situazioni e ad essere il più freddo possibile, però soprattutto tanta fortuna. Cesena che ha permesso poi di arrivare ai rigori, l'ha segnato Niccolò. Che emozione è stata quella di Cesena e soprattutto quest'anno, anche quest'anno non ci sono mancati i gol e abbiamo avuto anche qui in Pisa, no? No, Ceralpi è un altro che devo ricordarvi e quindi ecco, che emozione è sempre segnare un gol e soprattutto essere così determinante per la promozione? Sì, un'emozione incredibile, poi col gruppo che si era creato l'anno scorso, come quest'anno, è stata un'emozione incredibile, poi per me che ero stato tre anni, necessario giovane del Cesena, è stato ancora più bello, quindi siamo in quello stadio, un'emozione bellissima. Ecco, quindi avete capito, siamo...